Gareggiamo o restiamo qui parcheggiati tutto il giorno? Cominciamo subito! Ora ti mostro un paio di cose. C'è un giudatore a questo momento, non ti lasci. Guarda! Sei molto lungo, vece qui questo? solo qui posso vincere con un po' a care così è ora di dare spettacolo osserva Guino e impara ora ti mostro un paio di cose il gruppo mi renderà superiore? ora ti mostro un paio di cose il gruppo mi renderà superiore? guarda come filo ora qui ora ti mostro un paio di cose osserva Guino e impara meraviglioso osserva Guino e impara è ora di dare spettacolo su vostri speciali sono la mia specialità la mia specialità